Benvenuti, benvenuti all'Apegeo di oggi, 14 maggio. Oggi ci tuffiamo nella sabbia, oggi parleremo di sabbia e liquefazione. Il nostro relatore è il professor Francesco Cecinato. Francesco Cecinato è professore associato presso il nostro dipartimento e si occupa di modellazione numerica applicata a problemi di geotermia, geotermia superficiale, quindi una tematica che sicuramente è molto attuale. Si occupa anche, tema estremamente attuale di stabilità di pendii e tra le tematiche di ricerca ci sono appunto le relazioni tra la liquefazione delle sabbie e l'interazione di questi processi con diciamo le strutture antropiche e si occupa anche di miglioramenti di terreni. Quindi tutto quello che vorreste chiedere a un geologo, ma non avete mai usato chiederlo, lo potete fare, lo potrete fare oggi. Quindi do il benvenuto a Francesco. Francesco se ci sei batti un colpo. Ci sono. Eccoci. Ciao Francesco, benvenuto. Quindi ti invito a condividere la tua presentazione. Grazie Patrizia per la presentazione. Sono molto contento di essere qui e farvi compagnia in orario quasi aperitivo. Diciamo che l'aperitivo inizierà alla fine, per me almeno, di questo intervento. Io mi occupo di geotecnica come appunto materia, come disciplina, che è una disciplina dell'ingegneria civile che studia la meccanica dei terreni e la loro appunto interazione con le strutture antropiche, come diceva la professoressa Fumagalli. E vi parlerò di sabbie mobili e della liquefazione sismica. Sono due fenomeni molto simili tra loro dal punto di vista fisico, ma con un impatto diverso nella società e anche nell'immaginario popolare, perché ecco sono percepite, queste conosciute in maniera diversa. Per chi avesse visto un mio intervento simile l'anno scorso volevo avvisare che questo non è uguale, in particolare poi c'è una parte finale in cui si discute di tubi, così non potrete dire che non ci capite un tubo. E quindi seguite tutto fino in fondo. Ecco non so se per voi sia più familiare l'immagine che ho riportato in questa copertina sulla destra oppure quella sullo sfondo. Sicuramente per me prima di studiare all'università e specializzarmi in geotecnica era più familiare l'immagine di qualcuno che affonda nelle sabbie mobile piuttosto che quella di un edificio che si adagia sul fianco come se fosse improvvisamente svenuto senza che subisca dei danni alla struttura. Comunque entriamo nel merito della questione e iniziamo discutendo quanti casi di sabbie mobili fatali esistono. Allora nel cinema ne esistono tantissimi, soprattutto il cinema hollywoodiano, i prodotti dagli anni 60 agli anni 90 circa, era molto di moda per qualche motivo la sabbia mobile. Nella realtà invece sono pochissimi, per lo più avvenuti nei paesi tropicali, negli Stati Uniti, posti dove ci sono grandi aree desolate senza nessuno intorno. Vedete qui nelle figure due dei tanti esempi di personaggi che affondano nelle sabbie mobili, personaggi dei film, sopra è un estratto dal film Jumanji e sotto dal film Lawrence d'Arabia, forse non tutti hanno visto questi film, io per esempio non l'ho visti, ma questi fotogrammi suggeriscono che dal punto di vista del realismo scientifico c'erano delle bufale, delle vere e proprie bufale, perché è impossibile affondare fino al collo nelle sabbie mobili, per non parlare di affondare fino alle orecchie e vedremo perché. Certo guardiamo questa immagine, bisogna ammettere che dal punto di vista artistico l'idea delle sabbie mobili rendeva un sacco, ecco guardate questa catena di salvataggio con quale nonchalance il signore sulla destra e anche con quale taglio di capelli particolare, quelli che non se ne vedono più di questi tempi, ecco sostiene questa catena, ecco mentre impugna uno sgrassatore con l'altra mano, non si sa come mai, e la ragazza al centro salva il tizio affogato che sta affondando nelle sabbie mobili per i capelli, proprio letteralmente per i capelli, ecco questo negli anni 70 era un modo molto scenico per farsi salvare dalle sabbie mobili, almeno insomma se si avevano i capelli non si soffriva di calvizie e invece i casi documentati di liquefazione sismica fatale che hanno causato quindi catastrofi, devastazione e anche morti sono purtroppo tanti, ma non c'è nessun caso cinematografico, almeno per quanto mi risulta. Uno dei casi più famosi si vede in alto a destra, uno dei casi più famosi almeno tra gli ingegneri che di solito quando guardano queste foto sui social si inteneriscono, ecco al posto dei gattini, gli ingegneri si inteneriscono con queste immagini ed è il terremoto di Niigata avvenuto in Giappone nel 1964, è stato il primo caso documentato in cui si è manifestata la liquefazione in modo così spettacolare diciamo, oltre che catastrofico, ecco come vedete questi edifici si sono proprio letteralmente sdraiati su un fianco senza subire almeno macroscopicamente alcun danno strutturale, quindi sicuramente è successo qualcosa al terreno, gli è mancata la terra da sotto i piedi a questi edifici, ma di preciso che cosa è successo? Adesso lo vediamo, intanto guardiamo in basso a destra un'altra immagine dello stesso fenomeno, porto di Kobe, un altro terremoto sempre in Giappone, terremoti di elevata magnitudo, anche qui vedete che le strutture portuali si sono accartocciate per via dei movimenti del molo stesso che ovviamente è appoggiato, è fondato nel terreno, anche in questo caso sabbioso ed è abbastanza impressionante. Altre immagini catastrofiche sempre dal Giappone, in particolare da quel terremoto del 1995 avvenuto a Kobe, qua potete vedere a destra che si è adagiato su un fianco un intero viadotto urbano, se appunto chi abita a Milano saprà che ce n'è uno simile anche in città, in zona Monteceneri. Certo questo tipo di viadotti in città non sono bellissimi ma non per questo si meritano di finire in questo modo e a sinistra un molo si è come, come vedete, si è come dilatato lateralmente, si è espanso lateralmente perché il muro che sosteneva il molo per poter realizzare una struttura così occorre un muro o un'opera di sostegno che trattiene il terrapieno, questo muro si è scivolato verso il mare causando questo evidente disastro. Il terremoto di Kobe in particolare ha fatto 6.000 morti, certo non solo per problemi di liquefazione ma comunque è stato un terremoto di elevatissimo impatto e grande magnitudo. Ancora qui siamo sempre nell'ambito del terremoto di Nigata, quello del 64, anche qua vedete le parti strutturali orizzontali di questo ponte che si chiamano impalcati in gergo tecnico sono rimaste intatte, mentre in Italia purtroppo insomma nostro malgrado siamo abituati a sentire di crolli di ponti per collassi strutturali, in questo caso la struttura è rimasta integra, non c'entra niente, ma si sono mossi, si sono spostati, hanno ruotato fondamentalmente le fondazioni, cioè le fondamenta di quei pilastri, di quei piloni. I testimoni oculari tra l'altro in questo caso raccontano che il collasso iniziò un minuto dopo l'inizio del terremoto, quindi suggerendo che il terremoto non fu direttamente responsabile di questo crollo ma innescò qualcosa che poi ha causato appunto il crollo stesso. Finora potrebbe sembrare che solo i giapponesi abbiano avuto e abbiano queste sfortune, non è così, ecco qua un altro caso di evidente fenomenologia simile in Turchia, abbastanza più recentemente nel 1999, stessa dinamica, terremoto, terreno che manca da sotto i piedi degli edifici. E l'America è esente? Assolutamente no. Di queste fotografie potete notare in alto che riguarda un terremoto di città del Messico, è un terremoto di grandissima magnitudo, magnitudo 8 che ha fatto 5.000 morti e in basso siamo negli Stati Uniti dove questa diga in terra ha subito un collasso sempre per liquefazione sismica e qui è stata sfiorata una tragedia di dimensioni enormi perché a collassare è stato per fortuna diciamo il lato interno della diga, cioè quello dalla parte del lago, quello a contatto con il lago e quindi la diga non è stata scavalcata dall'acqua che avrebbe ovviamente finito il lavoro di distruzione. E infine anche in Italia ci sono stati casi di liquefazione sismica e anche recenti, sicuramente meno gravi di quelli che abbiamo visto finora e a rigore sono anche tipologie diverse di liquefazione ma la fisica del fenomeno è la stessa praticamente, sono tipici i cosiddetti vulcanelli che vedete nella figura grande sulla sinistra e sono una manifestazione della liquefazione di strati di sabbia posti più in profondità, più tardi vedremo perché. E poi ci sono state sempre in Emilia il terremoto del 2012 manifestazioni più classiche tra virgolette di liquefazione come lo sprofondamento di alcune parti strutturali di edifici, marciapiedi come vedete nelle foto in piccolo, in basso e per fortuna sono stati meno drammatici che altrove. ma c'è un fenomeno secondo me ancora più strano che è davvero controintuitivo e questo riguarda l'emersione dei tombini e dei serbatoi interrati, quindi strutture vuote che emergono dalla strada, dal piano di campagna. E la natura veramente ti inganna perché l'ultima cosa che ci aspettiamo capiti durante un terremoto è che spunti qualcosa da sotto, di solito si sta sempre attenti a che non cada qualcosa dall'alto e invece ecco qua che spuntano questi manufatti dal basso verso l'alto. Per capire perché mai succede tutto questo bisogna fare un passetto indietro e introdurre un pochino di concetti ingegneristici e in particolare bisogna introdurre il concetto ingegneristico di resistenza a taglio. Cercherò di andarci piano con con l'ingegneria per evitare che vi annoiate, vi addormentiate tutti. La resistenza a taglio che cos'è? È la capacità di opporre resistenza ad azioni di distorsione. Penso che queste immagini siano abbastanza eloquenti. In altre parole o meglio con una definizione un po' più accurata è la resistenza ad azioni che tendono a rompere la continuità di un corpo lungo piani perpendicolari a quello in cui sono applicate le forze e potete vederlo bene da questi da queste figure sulla destra. Ecco pensate a un blocco di metallo, un blocco di roccia, indubbiamente questi sono dei solidi che sono in grado di resistere ad azioni di distorsione deformandosi magari ma senza rompersi sempre fino a una certa soglia. Oltre per quanto riguarda appunto i solidi che sono più diciamo meglio identificati nell'immaginario popolare ma anche la sabbia normalmente è in grado di resistere alle distorsioni e di sostenere ad esempio il vostro piede, un piedone gigante come in questa foto che calpesta la sabbia. Anche qui al contorno del piede la sabbia è sottoposta a tensioni di taglio come indicano le frecce, sono appunto il piede tende a distorcere la sabbia in una direzione perpendicolare al piano in cui è applicata la forza, cioè la forza peso di questo gigante, il proprietario di questo piedone. Ecco quindi il fatto di resistere a taglio caratterizza i solidi, un solido ha una certa resistenza a taglio mentre un fluido assolutamente no, un fluido non resiste a taglio quindi la resistenza a taglio è caratteristica della roccia, del legno, del ghiaccio, del cemento e per questo, quindi anche della sabbia è caratteristica e per questo è possibile camminare sulla terra ma non sull'acqua. Se un comune mortale, ecco in figura è mostrato un attore, mostra di poter camminare sulle acque evidentemente c'è un trucco perché i fluidi non resistono a taglio. È una macro distinzione che ci interessa molto per arrivare a spiegare che cos'è la liquefazione, che cosa sono le sabbie mobili. Il terreno, sabbia o altro tipo di terreno che sia, normalmente è un solido e per questa ragione, in virtù quindi della sua resistenza a taglio è possibile camminarci sopra ma anche fondarci gli edifici, anche quando è saturo d'acqua. lo dimostrano tutte le costruzioni a mare o vicine a mare, per esempio in alto vedete il grattacielo fighetto di Dubai, la vela evidentemente è fondato su sabbia immersa, satura d'acqua e sta benissimo in piedi, si affida proprio a quella proprietà della sabbia di essere un solido, così come tutte le opere portuali, piattaforme, pontidi, come ecco nella figura in basso. Come fa il terreno a resistere a taglio? Ecco qua facciamo una sorta di zoom con la macchina fotografica immaginaria e andiamo a vedere in un piccolo aggregato di granelli di sabbia. l'azione esterna quindi che può essere appunto l'azione del nostro peso sul bagnasciuga si ripartisce tra i granelli tramite delle forze di contatto che vedete disegnate in basso con le freccette bianche, questi granelli nei punti dove sono a contatto tra di loro si trasmettono delle forze e quindi questo si chiama scheletro solido, l'insieme dei granelli che resiste in virtù dell'attrito tra le particelle che praticamente risultano premute le une contro le altre. Risultando premute le une contro le altre l'attrito proprio che c'è nella superficie tra un granello e l'altro riesce a sostenere le azioni esterne, in particolare le azioni di taglio, oltre alle azioni esterne riesce a sostenere quelle dovute al peso proprio perché chiaramente uno strato di sabbia ha un suo peso per cui si autosostiene. Che cosa sono le sabbie mobili? Le sabbie mobili non sono un tipo di terreno ma una circostanza, una circostanza geotecnica, una circostanza idrogeologica, praticamente abbiamo bisogno di certi ingredienti per creare le sabbie mobili, ovvero la natura ha bisogno di certi ingredienti. Sono terreno, va bene, un terreno granulare saturo, una sabbia e sciolto, quindi una sabbia non molto addensata e può favorire il fenomeno un eventuale flusso d'acqua dal basso verso l'alto da una sorgente sotterranea come è schematizzato in questa figura. Abbiamo appunto che la pressione dell'acqua proveniente da questa eventuale sorgente sotterranea allenta le particelle, cioè aumenta la pressione dell'acqua e riduce l'attrito fra i granelli e se capita di camminare sopra questa questa zona ecco di sabbia poco addensata con sorgente sotterranea dal basso verso l'alto il peso della persona che ci cammina sopra aumenta ulteriormente, fa aumentare ulteriormente la pressione dell'acqua finché le particelle praticamente perdono contatto tra di loro e diventano una sospensione, quindi non sono più ingranate ma diventano sospese in una matrice d'acqua e quindi di fatto la sabbia si comporta come un fluido, sono una sospensione, è un fluido certo viscoso, un fluido che non che non scorre, che non fluisce facilmente come l'acqua ma appunto non più un solido e quindi se la sabbia si comporta come un fluido non resiste più a taglio e quindi quello che vi si appoggia sopra affonda se è più pesante del fluido oppure emerge se è più leggero del fluido. Una volta affondati la sabbia si ricompatta, quindi torna solida, subisce una transizione, tornata solida oppone di nuovo resistenza allo sfilamento. Vi sarà capitato da piccoli o anche da adulti se non di affondare nelle sabbie mobili, cosa che comunque non auguro a nessuno come esperienza, potrebbe essere se non altro un po' traumatica, di giocare al mare ecco a seppellire sotto la sabbia gli amici ecco oppure anche voi stessi, seppellirli nella sabbia a una certa profondità per esempio fino alle ginocchia o fino alla vita. Avrete notato che una volta ricoperti di sabbia non è facilissimo liberarsi, ecco questo perché la sabbia solida ha una resistenza a taglio significativa. Siccome la sabbia torna solida oppone resistenza allo sfilamento e quindi si può in qualche modo rimanere incastrati e il segreto e la atipicità di questo fenomeno sta proprio nella sua transitorietà, cioè la sabbia si trasforma velocemente da solida, fluida e viceversa ed è tutto regolato come dicevamo prima dalle variazioni di pressione dell'acqua che è contenuta nei pori della sabbia. Quindi anche se non menzionata esplicitamente la pressione dell'acqua è il convitato di pietra diciamo per usare un'espressione non tecnica di questo fenomeno. Andiamo a vedere che cos'è invece la liquefazione sismica. Allora gli ingredienti di base sono essenzialmente sempre gli stessi. Da un lato serve un terreno sabbioso sciolto e saturo d'acqua, immerso in acqua. Allora abbiamo quindi una scossa sismica che per sua natura tende a compattare il terreno e questo è un po' come quando si sbatte il barattolo di caffè, vi sarà capitato, per compattare la polvere, far centrare tutta la polvere del pacchetto sottovuoto. Però la differenza qual è? Che la polvere di caffè contiene aria e l'aria è un gas quindi è comprimibile, invece la sabbia contiene acqua e l'acqua è incomprimibile. Per potersi compattare l'acqua deve essere espulsa dai pori tra un granello e l'altro, altrimenti i granelli non riescono a compattarsi e a ridurre il loro volume. E quindi in gergo si dice che deve essere permesso il drenaggio, l'acqua deve essere espulsa. Il problema qual è? Che data la rapidità del sisma manca il tempo di espellere l'acqua e quindi la sabbia non riesce a compattarsi, non riesce a espellere l'acqua, non potendo scappare via l'acqua va in pressione, aumenta la sua pressione e quindi come descrivevamo prima per le sabbie mobili riduce l'attrito fra i granelli e quindi la resistenza a taglio del terreno. Quindi in pratica il terremoto trasforma la normale sabbia in una sabbia mobile temporaneamente. Anche qui la pressione dell'acqua è il convitato di pietra. E quali sono le conseguenze? In concomitanza della liquefazione oppure poco dopo si hanno forti e irreversibili deformazioni del terreno. Siccome la sabbia diventa un fluido perde la capacità di sostenere quello che gli viene appoggiato sopra. Quindi ciò che è più pesante affonda e ciò che è più leggero galleggia. E quindi si hanno, si possono avere ribaltamento di edifici come nel caso del terremoto di Niigata, si possono avere ribaltamento, spostamento laterale di opere di sostegno come nel caso del molo al porto di Kobe, si possono avere movimenti franosi come nel caso della diga negli Stati Uniti, si possono avere emersioni dei tombini e dei serbatoi interrati perché in quel caso ecco sono delle strutture che sono più leggere rispetto, diciamo, come densità media rispetto al peso di volume della sabbia liquefatta. E poi al termine del sisma o poco dopo il termine del sisma la sabbia si ricompatta, torna solida e queste deformazioni del terreno sono molto significative e irreversibili. Quindi tendenzialmente si hanno dei collassi, dei veri e propri collassi di strutture e infrastrutture. Adesso credo che, almeno spero che sia un po' più comprensibile il motivo per cui i vulcanelli che sono stati osservati in tanti posti, ad esempio in Emilia durante il terremoto del 2012, testimoniano la liquefazione. Si tratta praticamente di sabbia liquefatta che risale in superficie trascinata in sospensione dall'acqua in pressione. In pratica sono come dei getti di fango sabbioso pressurizzato. Nella figura, insomma, si può vedere uno schemino nella figura in alto in cui, ecco, se vicino al piano di campagna c'è una crosta, diciamo, uno strato di terreno secco, la sabbia che appunto è trasportata dall'acqua in pressione può fuoriuscire e quindi si crea una piccola eruzione di sabbia e il risultato è appunto la forma dei crateri, dei vulcanelli. I crateri sono un concetto leggermente diverso che vi mostro tra poco e diciamo che inoltre, diciamo, il concetto è che in mezzo allo strato di sabbia si accumula una maggiore pressione perché se siamo vicini alla superficie l'acqua ha una via di fuga, no? L'acqua può allagare la superficie ma se siamo in mezzo allo strato come la finestrella evidenziata nello schemino che vediamo in alto, l'acqua per scappare deve compiere un percorso più lungo e quindi la sua pressione aumenta maggiormente e quindi si ha, diciamo, un aumento di pressione dell'acqua che non è lo stesso in tutto lo strato. Tipicamente poi appunto la sabbia in superficie è secca oppure parzialmente satura e quindi si verificano questi fenomeni. se ancora non ci credete che la liquefazione è un fenomeno reale potete fare un esperimento a casa, ecco, non so se avete mai provato a farlo a casa vostra, io no, però non è pericoloso come quelli con le reazioni chimiche o con l'elettricità ad alta tensione. Ecco, gli ingredienti sono sempre sabbia satura d'acqua con la consistenza più o meno di una granita siciliana, la preparate, non assaggiatela anche se sembra una granita caffè, seppellite una pallina da ping pong o altro elemento molto leggero e vuoto al di sotto della superficie di sabbia, poi compattatela un po' a simulare un po' il processo di sedimentazione, di deposizione di uno strato di sabbia in natura e metteteci un peso che rappresenta a un edificio e poi sottoponetela a scuotimento sismico. Forse non sentite l'audio ma non importa, l'importante è il video. Ecco, vedete che pian piano si crea la liquefazione e ciò che è più pesante affonda e ciò che è più leggero emerge. Si vedono anche delle bollicine d'aria che testimoniano proprio la pressurizzazione e l'acqua che risale in superficie. Vedete che l'acqua ha un po' allagato questa sabbia ma poi alla fine dopo la liquefazione la sabbia ritorna in grado di sostenere di nuovo il nostro edificio e quindi riguadagna resistenza taglio. Quindi questo piccolo esperimento domestico mostra diciamo in maniera molto semplice il fenomeno della liquefazione. Adesso che sappiamo di che si tratta sappiamo anche come ci si può liberare dalle sabbie mobili che occupano sempre un posto diciamo associato a inquietudine nell'immaginario collettivo. Dunque le sabbie mobili sono come un fluido che però è pesante circa il doppio dell'acqua quindi il corpo umano se già galleggia abbastanza bene in acqua galleggia molto meglio nella sabbia mobile e quindi come a volte avrete fatto al mare diciamo di mettersi ad orso a fare il morto come si dice diciamo in gergo popolare diciamo che sdraiandosi nella sabbia mobile sicuramente non affonderete. Chiaramente se ci sdraiamo anziché stare verticali sfruttiamo una spinta di archimede, una spinta di galleggiamento più grande perché a parità di affondamento spostiamo un volume di fluido maggiore. Quindi sdraiati non si affonda, ci si può sdraiare e quindi poi girandosi su un fianco si può strisciare verso la terra solida e quindi verso la salvezza. E se proprio vi capitasse perché magari vi agitate di affondare verticalmente allora seguite i consigli di Alberto Angela. Ecco lui sicuramente meglio di me, da divulgatore bravissimo vi spiegherà come ci si può liberare dalle sabbie mobili nel superbio scenario tra l'altro di Mont Saint Michel, lo potete trovare credo su YouTube e l'importanza è l'importante comunque come nella maggior parte delle situazioni problematiche della vita è stare calmi, mantenere la calma e non muoversi convulsamente, non muoversi a casaccio ma lentamente sollevare i talloni e camminare all'indietro. Ecco in questa maniera vi riuscirete sicuramente a liberare prima che arrivi l'alta marea a farvi la festa perché allora non è possibile affondare fino al collo o fino alle orecchie o completamente ma l'unico rischio per la vostra incolumità può essere quello di rimanere incastrati e non avere nessuno che vi soccorra. Ecco per questo quando sono capitati episodi fatali di sabbie mobili è capitato in aree remote spesso appunto in zone tropicali nel continente americano ed è capitato che questi malcapitati magari morissero di sete oppure annegati per il sopraggiungere della marea oppure addirittura in qualche caso particolarmente diciamo drammatico sbranati da da bestie feroci come come gli alligatori. Chiaramente le probabilità che questo accada in Italia sono vicinissime allo zero. Adesso vediamo come si può prevenire la liquefazione tornando alla liquefazione sismica che è più insidiosa e più e più pericolosa. Allora per capire se il terreno è suscettibile a liquefazione bisogna valutare sia fattori predisponenti che fattori scatenanti. Esistono in generale tre tipologie, tre categorie di metodi, cosiddetti metodi qualitativi, metodi ingegneristici e metodi avanzati con complicazione crescente. Un primo criterio qualitativo è quello storico. La liquefazione tende a riproporsi laddove si è già verificata. In questa mappa ad esempio sono raccolte delle testimonianze storiche di indizi di liquefazione negli ultimi mille anni circa e come vedete la distribuzione di queste zone ricalca abbastanza bene come densità dei punti anche le zone a maggiore sismicità d'Italia e questo appunto è un primo criterio rispetto al quale controllare, fare un controllo preliminare nel nel sito in cui si vuole fare una verifica rispetto alla liquefazione. Ecco ad esempio in degli scritti di sismologia del 1875 riguardanti Cesenatico che è sulla riviera romagnola si legge che un cacciatore che passeggiava lungo il Lido vide a un tratto levarsi delle onde che si rovesciarono sulla spiaggia e mentre fuggiva a tutta corsa si incontrò in parecchi getti d'acqua che violentemente si alzavano dal suolo e quindi nei vari punti dove erano sorti si trovarono tante piccole cavità in forma di imbuti. Questa è una testimonianza riportata in uno scritto del 1875 del terremoto di Rimini e ecco queste piccole cavità in forma di imbuti non erano altro che i cosiddetti crateri che sono una manifestazione analoga a quella dei vulcanelli ma in questo caso laddove il piano di campagna sia costituito da sabbia sciolta e secca. In questo caso i getti di acqua mista sabbia che provengono dalla profondità creano una sorta di piccolo appunto cratere, piccola voragine e sono anche questi una tipica evidenza di liquefazione. Poi ci sono i cosiddetti criteri geologici che suggeriscono alcune categorie di terreni o comunque di terreni rocce e mezzi geologici che sono più o meno suscettibili a liquefazione, in particolare sedimenti saturi d'acqua creati da fiumi o laghi e geologicamente più giovani sono più suscettibili a liquefazione. La categoria A riguarda letti di fiume, paludi, terreni di bonifica, la categoria B argini naturali, conoidi, dune, la categoria C terrazzi, colline e montagne e nella categoria A la liquefazione è considerata probabile, la foto riguarda una manifestazione di liquefazione nella pianura padana, nella categoria C invece improbabile, chiaramente sulle prealpi o sulle Alpi dove appunto ci sono colline, montagne e terrazzi, la liquefazione è improbabile. Poi c'è un terzo criterio sempre tra quelli qualitativi, il criterio di composizione che ci dice che i terreni più suscettibili a liquefazione sono quelli sabbiosi con granelli uniformi e arrotondati e questo è abbastanza intuitivo perché diciamo che terreni sabbiosi con granelli molto spigolosi e scabri avranno un attrito tra granello e l'altro mediamente maggiore e quindi sarà in generale un po' più difficile che perdano completamente la loro resistenza a taglio e anche i terreni meno plastici. In questo diagramma sulla destra senza entrare troppo nei dettagli si vede che ci sono delle categorie in base alla loro plasticità e al contenuto naturale d'acqua e i terreni considerati sicuri rispetto alla liquefazione sono quelli plastici come vedete che si possono manipolare la loro forma diciamo di un campione prelevato e portato diciamo in superficie può essere modellato plasticamente, sono i terreni argillosi. Questi però erano dei metodi qualitativi per fare quindi una valutazione preliminare ma poi occorre anche trovare dei numeri, in particolare gli ingegneri devono quantificare, devono trovare un fattore di sicurezza o comunque dei valori, delle grandezze cercate per poter stabilire, per poter prendere una decisione e quindi un metodo il più semplice tra quelli disponibile tra i metodi semi empirici o ingegneristici è il metodo che consiste nel calcolare un fattore di sicurezza, questo FSL è un fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione che riguarda una certa profondità, è un numero da calcolare per ogni profondità rispetto appunto al sottosuolo in una zona dove vogliamo valutare il rischio di liquefazione e quindi è un numero con un numeratore e un denominatore che rappresenta di fatto il grado di sicurezza di un dato strato di terreno, al numeratore c'è la resistenza a taglio ciclica del terreno che praticamente si può valutare con delle prove di laboratorio che consistono in sottoporre dei provini di terreno a sollecitazioni cicliche diciamo distorsioni di segno opposto alternato a simulare un po' una scossa sismica finché non subentra la liquefazione e collassano, queste sono più accurate ma anche più costose e anche difficili da eseguire bene e da interpretare, invece sono più semplici le prove in sito come vedete nella figura B come questa che si chiama prova penetrometrica e consiste nell'infiggere nel terreno una punta e ricavare indirettamente questa resistenza a taglio ciclica utilizzando delle correlazioni empiriche e poi la sollecitazione a taglio ciclica indotta dal terremoto si valuta da correlazioni con l'accelerazione massima di un dato sisma e questa accelerazione può essere un profilo sismico reale di un terremoto avvenuto in quell'area oppure un profilo sintetico, si calcola quindi questo rapporto e si fa un grafico di come varia questo rapporto con la profondità e chiaramente adesso prendo il puntatore, chiaramente laddove il fattore di sicurezza è minore di 1 significa che la resistenza del terreno è inferiore alla sollecitazione sismica e quindi in tutte le zone dove FSL è minore di 1 si può avere la liquefazione. Questi sono grafici idealizzati invece qui vediamo un grafico con dati reali e vedete che appunto il profilo diciamo di sollecitazione sismica varia con la profondità e il profilo di resistenza del terreno non è regolare ma ha una forma sicuramente molto irregolare, questa è ricavata dalle prove penetrometriche ma si può evidenziare che c'è un'alta suscettibilità a liquefazione nelle zone superficiali del terreno in questo caso. Come prevenire la liquefazione? Allora se abbiamo fondamenta, si chiamano fondazioni in gergo ingegneristico, superficiali le possiamo connettere tra di loro, le fondazioni superficiali sono come dei piedini e se le uniamo tra di loro formiamo una sorta di zattera che può in qualche modo resistere meglio alle distorsioni che una zona liquefatta potrebbe causare nell'edificio. Fa in qualche maniera da ponte tra due zone più resistenti del sottosuolo, altrimenti ci sono le fondazioni profonde che possono essere una soluzione più efficace e forse anche più economica in certi casi rispetto alla platea di fondazione, all'unione delle fondazioni superficiali e le fondazioni profonde sono come per un albero le radici, così per l'edificio le fondazioni profonde si aggrappano meglio al terreno buono e vanno ovviamente robustite strutturalmente per sostenere i movimenti laterali e anche connesse bene con la struttura sovrastante per evitare rottura in caso di rotazione, in questo caso lo strato che si potrebbe liquefare è qua in mezzo. E infine le tecniche diciamo di prevenzione che preferisco sono quelle di miglioramento del terreno perché sono le più intelligenti, eliminano la causa del problema, se chiaramente compattiamo il terreno e quindi da sabbia sciolta diventa una sabbia addensata il rischio di liquefazione diminuisce moltissimo, così come forse ancora più intelligente è creare dei drenaggi in cui si danno delle vie di fuga all'acqua in compressione. E infine possiamo anche eseguire delle iniezioni cementizie in cui la nostra sabbia si irrigidisce e quindi si formano come delle colonne rigide che vanno a sostenere il terreno quando manca il sostegno della sabbia. Infine mi fa piacere velocemente mostrarvi un'applicazione di ricerca recente di cui mi sono occupato insieme a dei colleghi dell'Università Tecnica di Delft e del Politecnico di Milano. Non sarà immediato per tutti associare la liquefazione a problemi con le condotte sottomarine. Andando con ordine le condotte sottomarine che trasportano tipicamente gas, petrolio ma anche acqua sono importanti infrastrutture non solo energetiche e quando sono posate sul fondale direttamente sono vulnerabili perché sono esposte all'azione di correnti sottomarine, il moto ondoso ma anche il trascinamento di reti da pesca che ci si possono impigliare e all'impatto con le ancore. Infatti vediamo qua questa figura mostra l'involucro esterno di una condotta posata sul fondale dovuta all'impatto di quest'ancora. I rischi di danneggiamento in questo caso sono molti e allora spesso le condotte vengono stabilizzate seppellendole sotto il fondale a piccole profondità come mostra questo schema è un procedimento molto costoso ma si guadagna in sicurezza. Chiaramente se una condotta si rompe oltre a danneggiarsi ed essere poco funzionale può creare disastri ambientali. Quindi è un problema importante, coinvolge diverse tipologie di industrie. Che cosa può succedere però quando mettiamo le condotte sotto sotto la sabbia? Che la sabbia è molto sciolta ed è satura d'acqua quindi ha tutti gli ingredienti e ci sono tutti i presupposti per la liquefazione e per l'azione di moto ondoso, vibrazioni antropiche oppure terremoti alcuni tratti della condotta, immaginate che queste condotte sono lunghe centinaia di chilometri, quindi in alcuni tratti le condotte potrebbero sprofondare se sono più pesanti della sabbia liquefatta oppure riemergere se sono più leggere e quindi danneggiarsi. E allora questa ricerca ha riguardato diciamo la ricerca di un metodo per predire come si muovono le condotte dopo la liquefazione della sabbia. Sappiamo che prima della liquefazione la condotta è stabile perché è sepolta sotto uno strato di sabbia solida, sappiamo che all'istante della liquefazione la condotta si destabilizza perché la sabbia diventa un fluido, ma questo riguarda un piccolo periodo di tempo, un istante, un periodo molto breve e sapere questo non basta per predire come si muove la condotta, serve sapere che cosa succede dopo la liquefazione e quindi indagare in quello stato di transizione di fase in cui il terreno di nuovo da stato fluido ritorna solido, è proprio in quel transitorio che possono accadere i danni più grandi alle condotte così come ad altri manufatti, ad altre strutture infrastrutture. Senza entrare nei dettagli ecco anche perché siamo verso la fine, momento discendente della curva dell'attenzione diciamo che il modello matematico che descrive il comportamento della sabbia solida immersa in acqua ce l'abbiamo già, ce l'avevamo già e anche il modello che descrive l'interazione tra una struttura e un fluido, questo è il punto di vista della meccanica dei fluidi e questo è il punto di vista della meccanica delle terre. Ci mancava un collegamento tra i due tipi di comportamento oppure come si dice in gergo un accoppiamento e l'abbiamo trovato nella dipendenza della viscosità della sabbia, delle proprietà viscose della sabbia dalla pressione dell'acqua dei pori, quindi ritorna il nostro convitato di pietra, la pressione dell'acqua contenuta nei pori del terreno anche qua è quella da cui dipende la soluzione del problema e quindi poi abbiamo fatto riferimento a un esperimento di laboratorio in un modello in scala e abbiamo applicato il nostro modello, un modello matematico abbastanza complesso risolto numericamente quindi con un codice informatico e abbiamo verificato la capacità diciamo di simulazione o predittiva di questo modello confrontando la simulazione e le misure sperimentali in termini di spostamento del tubo che proviene appunto misurato durante questo esperimento in cui la liquefazione è stata indotta artificialmente si trova una buona corrispondenza e quindi abbiamo a disposizione uno strumento previsionale che può essere utile per identificare i casi in cui esiste un rischio di danneggiamento delle condotte e predisporre eventuali misure di prevenzione del danno. Ringrazio tantissimo Francesco Cecinato ci ha aperto gli occhi sui processi di liquefazione sulle sabbie mobili ricordo a tutti il prossimo appuntamento per il 28 maggio parleremo di suoli anche ancora e da un altro punto di vista quindi ringrazio ancora Francesco cin cin salute adesso è l'ora dell'aperitivo io stapperò stapperò una birra e quindi brindo con te. Perfetto cin cin. Ok grazie ancora grazie mille e a presto a tutti. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci.